Con che spirito si parte verso questa Serie C? Sì, sono molto contento perché alla fine siamo partiti alla grande, questo è il quarto giorno e saranno giorni difficili però può essere il ritiro quindi speriamo bene. Tu ormai sei uno dei veterani della squadra, possiamo definirti così. Quanto ti ha inorgoglito intanto essere coinvolto anche nel progetto tra i professionisti? No, sì, sono da quattro anni qua, sono molto contento perché alla fine sono stati anni importanti e per me è anche un orgoglio essere qua e questo mi spinge sempre a fare di più perché siamo saliti adesso in Lega Pro, siamo in Lega Pro quindi dobbiamo dare sempre il massimo e dare anche qualcosa in più ai ragazzi che sono arrivati da poco. Che tipo di gruppo sta nascendo intanto, appunto, tante novità? No, sta nascendo un grande gruppo, ci stiamo conoscendo tutti per bene, piano piano e non mancheranno altri giorni per appunto conoscerci tutti. Che rapporto intanto si sta instaurando con il mister? È un allenatore che in carriera ha valorizzato tanti attaccanti? Sì, sì, il mister valorizza molto la parte in attacco, è un mister che può aiutare molto sia i giovani sia a fare molto bene la fase offensiva. Intanto l'esordio in campionato è noto, giocherete contro il Crotone quindi si partirà subito contro un avversario molto forte e giocherete le prime partite di stagione a Bari. Ecco, questo chiaramente vi allontana da casa però giocherete anche in un impianto particolare come il San Nicola. Sì, sì, certo, sicuramente il San Nicola è un grande stadio, però non vediamo l'ora anche di rientrare nella nostra casa perché è lì la nostra squadra, la nostra città e non vediamo l'ora di riempire il Tonino d'Angelo.